In Australia è vietato possedere 50 chili di patate, in Cina è illegale reincarnarsi senza il permesso del governo, in Germania è lecito scappare di prigione. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Bagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. A tutti voi sarà capitato, almeno una volta, di imbattervi in una notizia o un'informazione che sembrava davvero troppo strana per essere vera e invece lo era davvero. Ricordo, ad esempio, quando nell'aprile 2020 si era diffusa la notizia dell'addestramento di alcuni cani per far sì che fossero in grado di riconoscere coloro che erano positivi alla Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. Quando la notizia è stata segnalata per una verifica alla redazione di Facta, ci siamo tutti guardati sorridendo, pensando si trattasse della solita notizia satirica. In realtà, le cose stavano davvero così. Al tempo, infatti, l'idea era stata lanciata dalla ONLUS Medical Detection Dogs, che da anni si occupa di addestrare i cani alla ricerca di malattie come cancro, Parkinson e malaria. La diagnosi colfattiva canina, come metodo per l'individuazione precoce di malattie, è infatti, forse non lo sapete, un ambito riconosciuto come valido dal punto di vista scientifico. Sarebbe poi interessante scoprire come è andata a finire questa sperimentazione. Onestamente non lo so, darò un'occhiata e mi informerò. Oggi vi parlerò proprio di storie assurde, a volte vere e a volte no. E il destro, per raccontarvi qualcosa su questo tema, ce lo dà un video, circolato molto negli ultimi giorni su TikTok, in cui una voce artificiale elenca una serie di azioni definite sorprendentemente illegali in giro per il mondo. Il filmato menziona diversi commenti di utenti Reddit, sito web e forum di intrattenimento che, per l'appunto, hanno citato alcune presunte leggi molto strane in vigore su tutto il pianeta. Cos'è sorprendentemente illegale? In Australia occidentale, possedere più di 50 chili di patate. Si avete sentito bene, patate. In Germania è legale scappare di prigione, ma non con l'uniforme da prigioniero, poiché in quel caso sarebbe furto. È divenuto illegale paracadutarsi dentro la basilica di San Pietro in Vaticano dopo che qualcuno l'ha fatto. Hanno dovuto creare quella legge proprio per lui. Fu lasciato andare senza punizioni dato che la legge non esisteva. In Cina, è illegale reincarnarsi senza il permesso del governo. Pagare i parchimetri scaduti di macchine che non sono la tua. Alcuni divieti sono in effetti particolarmente bizzarri, come quello che in Australia imporrebbe di non possedere più di 50 chili di patate, o quello stabilito dal governo cinese di proibire la cosiddetta libera reincarnazione, oppure ancora quello secondo cui sarebbe addirittura illegale pagare il parchimetro ad automobili che non sono la propria. Immagino sarete un po' curiosi di sapere che cosa è vero e che cosa non lo è, quindi iniziamo subito con l'analisi della prima notizia. Davvero in Australia occidentale è illegale possedere più di 50 kg di patate? Secondo la prima delle strane leggi riportate nel video, in Australia occidentale, lo stato chiamato per l'appunto Western Australia, sarebbe illegale possedere più di 50 kg di patate. Allora, una norma di questo tipo effettivamente esisteva, ma è stata cancellata nel 2021. Nel 1946, infatti, era stata introdotta una legge sulla commercializzazione delle patate, conosciuta come Marketing of Potato Act, che definiva le disposizioni sia per la commercializzazione, sia per la vendita e anche per lo smaltimento delle patate, e poi anche per il controllo della produzione e la definizione della concessione delle licenze per l'utilizzo delle aree destinate alla produzione. In quell'occasione era nata anche la Potato Marketing Corporation of Western Australia, una società incaricata proprio di gestire la fornitura di patate. Allora, stando alla legge, era illegale per chiunque vendere, acquistare, prendere in consegna, recapitare o anche trasportare una quantità di patate che superasse i 50 kg. ad esclusione dei membri della Potato Marketing Corporation, che erano gli unici autorizzati alla gestione del tubero. La legge, il cui tra l'altro mancato rispetto causava delle multe anche piuttosto salate, è stata però abrogata definitivamente il 22 maggio 2021. Spostiamoci adesso in Germania, dove è vero che, di base, scappare di prigione è legale, però non senza conseguenze. Secondo la legge bizzarra di cui si parla nel video che stiamo analizzando, in Germania infatti sarebbe legale scappare di prigione, ma non con l'uniforme da prigioniero, poiché in quel caso sarebbe furto. Allora, per quanto strana, si tratta di una notizia vera, che però va decisamente contestualizzata. Il reato di fuga dal carcere non esiste all'interno del diritto penale tedesco, quindi, almeno dal punto di vista teorico, qualsiasi prigioniero può evadere tutte le volte che vuole senza affrontare un nuovo processo. Questa è la teoria, ma in pratica scappare impunemente non è per niente facile. E perché? Perché tutto ciò che viene commesso durante la fuga conta come un crimine. Cioè, ad esempio, esiste una violazione della legge se un funzionario viene aggredito, se una proprietà dello Stato viene danneggiata, ad esempio, segando le sbarre o aprendo un tunnel, oppure rubata, ad esempio, evadendo con i vestiti ceduti dal carcere. Sono poi previste sanzioni penali anche per chiunque aiuti un prigioniero a fuggire o lo induca alla fuga. Questi sono solo alcuni esempi. Quindi, l'unico modo per evadere senza conseguenze sembra essere il caso in cui qualcuno lasciasse tutte le porte aperte del carcere e i detenuti scappassero senza compiere ulteriori infrazioni. Si tratta di una situazione che, come vi renderete conto anche voi, è molto ma molto improbabile. Inoltre, non è punibile secondo il codice penale tedesco, ma questa può però portare a conseguenze sulla detenzione della persona evasa, una volta poi rientrata in carcere, e quindi incidere sulla valutazione della sua condotta, ritardando, ad esempio, un rilascio anticipato. Ma come abbiamo fatto a verificare questa notizia? Entriamo un attimo nella rubrica dedicata al debanking. Verificare un contenuto di possibile disinformazione che ha a che fare con i sistemi legislativi di un paese non è mai una cosa semplice e richiede particolare pazienza. Questo perché le norme sono spesso articolate con molti rimandi a leggi precedenti e l'interpretazione non è sempre facile. È importantissimo consultare solo le fonti ufficiali, navigando sul sito web del Ministero di Riferimento o su quello dove le leggi sono raccolte e consultabili, spulciandone ogni singolo dettaglio. Nel caso in cui si tratti di una notizia che riguarda uno stato diverso dall'Italia, la verifica è ancora più complessa perché la lingua in cui le leggi sono scritte non è l'italiano e merita un'attenzione ancora maggiore per non rischiare di fraintendere degli importanti passaggi. In questi casi è fondamentale controllare più volte la traduzione del passaggio della legge che si sta analizzando, così da essere sicuri di non fare errori. Se possibile, è bene consultare un madrelingua così da poter essere certi della corretta interpretazione di quanto letto. Lasciata la Germania, torniamo in Italia, in particolare nello stato del Vaticano e continuiamo però a parlare di leggi. Qui non è stata istituita una legge ad hoc contro i paracadutisti. Stando al video che stiamo analizzando, sarebbe infatti illecito paracadutarsi dentro la basilica di San Pietro in Vaticano perché qualcuno in passato l'ha fatto e quindi è stata poi istituita una legge ad hoc dopo questo episodio. Allora, in questa ricostruzione diverse cose non tornano. Facciamo quindi chiarezza. Nell'area del Vaticano è prevista una no-fly zone, cioè una zona vietata al sorvolo per dei motivi di sicurezza. Secondo quanto riportato dalla Prefettura di Roma, il divieto si applica a tutti gli aeromobili, inclusi in mezzi a pilotaggio remoto, come ad esempio i droni, e agli aeromodelli. Chiunque voglia sorvolare lo spazio aereo dello Stato del Vaticano deve obbligatoriamente segnalarlo alle autorità. Non esiste oggi una legge ad hoc per i paracadutisti, ma il divieto si estende a qualsiasi mezzo in volo. Nel 1975 un cittadino italiano si lanciò con il paracaduto in piazza San Pietro poco prima della messa con cui Elisabeth Ann Bailey Seaton era stata proclamata santa, portando con sé una riproduzione della statua della Madonna che si trova in cima al Duomo di Milano. In quel caso il lancio con il paracadute era stato concordato in anticipo con il Vaticano che aveva dato il permesso all'aereo privato di sorvolare l'area. Lasciato però il Vaticano passiamo alla Cina e al caso di una notizia bizzarra ma vera. È infatti corretto sostenere che in Cina è illegale reincarnarsi senza il permesso del governo, ma ciò accade per delle ragioni prettamente politiche. Vi spiego meglio perché non è semplicissimo. Allora, questa norma risale al 2007 quando le autorità cinesi decisero di proibire per legge ai monaci buddhisti la reincarnazione senza l'autorizzazione dello Stato. In questo modo ogni reincarnazione di alto grado dovrà svolgersi attraverso la cosiddetta urna d'oro, un tipo di sorteggio delle cariche politiche e religiose e dovrà designare una persona nata in territorio cinese. Ma perché questa norma? Allora, lo scopo del governo cinese non è quello di regolamentare una pratica spirituale, ma piuttosto quello di limitare il potere politico del futuro leader del buddismo tibetano. Il quattordicesimo e attuale Dalai Lama ha infatti speso gran parte della sua vita lottando per l'indipendenza del Tibet occupato nel 1950 proprio dalla Cina. La legge sulla reincarnazione cinese di cui stiamo parlando è stata dunque approvata dal governo per cercare di evitare che il prossimo leader spirituale tibetano prosegua sulla via dell'attivismo per l'indipendenza del Tibet. Infine spostiamoci per l'ultima volta su questo nostro grande pianeta e chiudiamo il nostro episodio parlando di parchimetri. Per quanto ne sappiamo non esiste un divieto di pagare i parchimetri scaduti di macchine che non sono la propria. La notizia riportata nel video non fa riferimento al luogo in cui sarebbe vietato questo tipo di comportamento ma è probabile che si riferisca ad alcuni casi di cronaca avvenuti nel 2014 nello stato del New Hampshire negli Stati Uniti. In quell'anno cosa era successo? Era successo che un gruppo di abitanti della cittadina di King che si faceva chiamare Robin Hooders aveva preso l'abitudine di versare i propri spiccioli per pagare i parcometri scaduti delle altre macchine lasciando poi dei biglietti sui cruscotti in cui si informavano i proprietari delle auto che era stato allungato il tempo di permanenza nel parcheggio e di averli salvati dalla cosiddetta tariffa del re. Queste azioni erano state organizzate in quella che il gruppo considerava una lotta contro l'oppressione del governo. Questo caso non era solo un caso di cronaca ma era diventato anche qualcosa di più. Infatti era stato portato davanti alla Corte Suprema del New Hampshire da alcuni funzionari pubblici che avevano denunciato di essere stati addirittura molestati dalla banda dei cosiddetti Robin Hooders. Il Tribunale aveva però stabilito che le azioni di questo gruppo erano in qualche modo un'espressione politica protetta quindi dalla Costituzione che non poteva essere limitata e che questi soggetti erano poi protetti dal primo emendamento finché le loro azioni sarebbero rimaste non violente. Successivamente nel 2016 in occasione di un ricorso appello dei cittadini di Keen contro questo gruppo di manifestanti la Corte aveva riconfermato questa decisione. Se quindi la presunta violazione citata nel video che stiamo analizzando fa riferimento a questi fatti quanto riportata è in sostanza una notizia falsa perché la Corte Suprema ha assolto i cosiddetti Robin Hooders e non ha vietato a nessuno di pagare se lo si vuole i parchimetri di macchine che non sono la propria. Allora io per oggi vi saluto se avete però altre notizie bizzarre e volete segnalarle alla nostra redazione scriveteci ci trovate sui diversi social network abbiamo un numero whatsapp di cui vi darò il numero tra poco qua in chiusura e anche via mail. Saremo sicuramente felici di fare chiarezza e chissà magari scopriamo che qualche buffa notizia è in realtà davvero parte delle nostre vite. A presto! Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social twitter facebook e instagram. Ci trovate anche su youtube e abbiamo un numero whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Facta News su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Bagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Bagnozzi e questo era veramente il podcast di Facta News.